La comunità montana Vallo di Diano con un avviso pubblicato sul sito internet ufficiale dell'ente comunica la riapertura delle iscrizioni per le imprese che ne fanno richiesta nell'elenco approvato con determinazione numero 89 del 13 settembre 2012, nel quale sono iscritte tutte quelle aziende a cui l'ente montano può rivolgersi per affidare lavori per la realizzazione di opere pubbliche di importo fino a 200.000 euro, mediante procedura negoziata. La comunità montana, con la formazione di quest'elenco di ditte di fiducia, intende creare una base conoscitiva degli operatori presenti sul mercato, interessati a svolgere lavori per l'ente stesso. Con il presente avviso specifica alla comunità montana, non viene posta in essere alcuna procedura concursuale di gara d'appalto o procedura negoziata, avendo tale atto esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato, finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi dell'ente. Le imprese che vogliono essere inserite nell'elenco dovranno far pervenire la domanda e la relativa documentazione in busta chiusa recante alla dicitura formazione di un elenco di ditte per l'affidamento di appalti di opere pubbliche. Alla comunità montana Vallo di Diano entro il 18 luglio 2013. Tutte le informazioni relative all'avviso e alla documentazione necessaria per l'iscrizione nell'elenco sono reperibili sul sito internet dell'ente montano www.montvaldiano.it